Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 coda per traffico intenso in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sul raccordo Siena-Firenze, riduzione di carreggiata per lavori tra Colle-Valdelsa Sud e Colle-Valdelsa Nord in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Bettolle, scambio di carreggiata per lavori tra Rigo Magno e Sinalunga e San Gimignanello in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia, senso unico alternato tra Carrara e Ortonovo. Sulla statale 3 Bistiberina, riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra Modonuccia, Poggiolino e Sansepolcro Nord. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!